Brahim Diaz si oppone, recupera palla, bravo Brahim, grande tenaccia Brahim che lancia la grande Leao, splendida azione di Brahim Diaz per Leao, 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 il pallonetto fuori. Brahim in buca per Tonali, Brahim anticipato, si libera il direttore di gara, gran botta di Ben Nasser, è la seconda occasione del Milan, attenzione, libero di qua Moarami, Moarami Saltateo, il tiro, la grande parata di Mike Mignot. Alexi, Alexi viene in mezzo, Alexi, il tiro di Alexi, la parata, bel tiro di Salemeckers, bel tiro. Fichto Mori dentro per Rafa, calcio di rigore, fallo su Rafa Leao, e beh, lo prende pieno. Gol! Ha segnato Livier, ha segnato Livier, ha segnato Livier, siamo venuti quassù per vedere, segnare Giroud. Attenzione, bella palla su Giroud, poi Alexi, quindi Brahim che allarga su Rafa, Rafa può puntare, Rafa se ne va, Rafa se ne va, ecco il cross di Rafa, colpo di testa, il gol di Alexi Salemeckers, il 2-0 del Milan. Rigore procurato, assista, Rafa, Leao, 2-0, secco subito. Orsic contro Davide, attenzione, arriva ad aiutarlo Salemeckers, eccolo lì Orsic, al tiro, gol. Gol di Orsic, ha fatto una bella azione loro, ha fatto veramente una bella azione. Pobega dentro per Teoteo, Teoteo, Pobega, gol! L'avevo detto ragazzi, vuoi vedere che Pobega come comandini segna con la Dinamo Zagabria il suo gol con la maglia del Milan. Sono felice per Tom Pobega, bravo Tom, bravo!